In questo video voglio parlarvi di caricatori per i vostri smartphone, tablet, macbook ma anche notebook in genere. Sono tutti quanti marchiati Voltme, prodotti di estrema qualità che vale la pena tenere sott'occhio proprio per questo. Insomma, ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, bentrovati qui sul canale. Voltme è un'azienda che conosco perché è stata già con noi all'interno di alcuni video di gadget tech e proprio all'interno di quelli tanti di voi hanno realmente apprezzato i loro prodotti per fattura, per qualità ma soprattutto per stabilità di funzionamento. Pensate che nella mia borsa dell'everyday carry che ho con me e vi ho portato un video anche su di questa, ecco il power bank di Voltme, i cavi di Voltme sono sempre con me proprio per la loro qualità estrema. Un retroscena, insomma il video non è partito come dedicato a questi prodotti, in realtà l'accordo era quello di inserirli all'interno di un video di gadget. Tuttavia non solo per quantità che mi è stata inviata ma anche per la qualità superlativa ho deciso proprio di portarvelo in un video dedicato appunto. Aggiungo non è un video assolutamente sponsorizzato, non bisogna per forza parlare bene di un'azienda ma questo quant'anche lo fosse solitamente si presenta quello che un'azienda propone e si dà una valutazione. Comunque sia detto questo li trovate linkati qui sotto in descrizione così potrete approfondire da voi stessi e trarre anche le vostre valutazioni. Chiaramente ve li lascio anche sul mio canale telegram di offerte e codici sconto così da avere anche qualche codice per risparmiare sul loro prezzo finale. Cercate giutec su telegram e così davvero potrete fare ottimi affari. Vi ricordo troverete codici sconto errori di prezzo minimi storici segnalati ma troverete anche segnalate le offerte di amazon seconda mano quindi prodotti ricondizionati ma sempre al top. Insomma date uno sguardo. E prima di partire con il video ecco vi aggiungo una piccola chicca non è marchiata voltmi ma semplicemente un caricatore un alimentatore per batterie del stilo AA in questo caso ma che hanno la particolarità non solo di essere ricaricabili ma loro sono agli ioni di litio e sì non sono le classiche nickel metal idruro sostanzialmente sono a polimeri di litio e ovviamente sia per durata ma anche in termini di vita stessa della batteria ecco i tempi si allungano davvero tantissimo quindi un prodotto che vale appena considerare come gli altri e che vi lascio qui sotto in descrizione. Partiamo allora con i nostri caricatori guardate queste sono le confezioni abbiamo due piccoli caricatori e abbiamo due grandi caricatori con cavo all'interno che andremo a vedere. Vi voglio solo mostrare le confezioni perché sono di estrema fattura di estrema qualità e sapete bene che per me costituiscono anche il biglietto da visita di un'azienda. Ovviamente le aprirò io per voi ma ci tenevo comunque sia a farvele vedere. Dopo aver zoomato l'immagine ecco che vi mostro due caricatori power delivery uno in colorazione nera e uno in colorazione bianca ovviamente per matcharli abbinarli al meglio con il vostro smartphone o comunque secondo i vostri gusti. Andiamo lì un attimo a prendere guardate non so se notate sono di estrema qualità una plastica opaca ma una plastica che restituisce un feedback davvero eccezionale credetemi sono davvero belli davvero fatti bene e non è quella plasticaccia che si trova su altra componentistica di questo tipo. Tra l'altro la qualità della manifattura ci dice anche come questi siano dispositivi estremamente affidabili. Sono dei caricatori power delivery hanno ben due porte usb di tipo c abbiamo anche il led di stato e hanno una potenza massima pensate di ben 45 watt vanno oltre i soliti 18 watt 20 watt che si trovano su altri dispositivi di questo tipo. Ovviamente potrete caricare due smartphone due tablet ma volendo proprio perché sono da 45 watt potrete persino ricaricarci un notebook ovviamente non avrete la ricarica standard andrà più lenta ma comunque sia in caso di estrema necessità volendo potrete farlo anche con questi. Torno a dire guardate due caricatori estremamente belli per colorazione e per fattura. Tra l'altro tutti quanti i prodotti voltme sono dotati di una tecnologia proprietaria che permette lo smistamento della corrente tra un dispositivo e un altro. E dopo questi passiamo agli altri due dispositivi che sembrano simili tra di loro ma in realtà non lo sono. Voglio presentarveli partendo dal più piccolino eccolo qui non si vede perché perché in confezione è inclusa anche una bustina ragazzi sembra una bustina quasi dozzinale ma in realtà è molto ben curata guardate al suo interno ha una sorta di fibra che va a proteggere a evitare graffi proprio sull'alimentatore. Vado a tirarlo fuori e ci trovo ben due prodotti in realtà il caricatore vero e proprio e poi ci trovo il cavo di ricarica ovviamente cavo di ricarica power delivery che supporta ben 100 watt di corrente interamente costruito in tessuto di super qualità guardate molto molto bello io ho la versione grigia di questo cavo che ho sempre nella borsa dell'everyday carry da due metri questi sono i classici un metro e 8 comunque con strappo guardate sono davvero di estrema fattura e soprattutto mi piacciono i connettori vi ricordo ve li lascio linkati qui sotto in descrizione anche separati i connettori sono ben protetti e vanno ad evitare ecco quel noioso problema della piegatura quando li andiamo a connettere a dispositivi particolari rischiano di piegarsi rischiano di rovinarsi beh con questi voltmi non succede ma adesso andiamo a vedere più da vicino il nostro caricatore un 75 watt quindi molto molto potente ha un doppio cavo uno bipolare eccolo e qui abbiamo invece il caricatore vero e proprio anch'esso di fattura super abbiamo il led che ci attesta lo stato della ricarica logo voltmi e sopra ben cinque porte tre power delivery e due porte usb di tipo a che permette anche su questi la ricarica veloce ovviamente qui la specifica particolare e che sfruttando queste due porte potrete tranquillamente ricaricare anche i dispositivi che non sono power delivery sostanzialmente potrete avere a mio avviso qualora voleste utilizzarlo per un notebook la corrente richiesta in media da tutti quanti i mac da tutti quanti i notebook windows ad esempio e poi sfruttare la restante parte per andare ad alimentare gli altri dispositivi ovviamente qualora voi aveste dei dispositivi più potenti sappiate che 75 watt è l'uscita massima e quindi con la tecnologia di voltmi tutto quanto diventerà sicuramente bilanciato equilibrato e l'alimentatore stesso sarà capace di indirizzare la corrente richiesta al tal dispositivo e anche andare ad ottimizzare i tempi metto da parte questo e vi parlo dell'ultimo caricatore che come vi dicevo sembra praticamente identico al precedente ma in realtà non lo è anche per lui bustina felpata all'interno che permette di evitare graffi questa volta abbiamo un alimentatore più grande anche qui incluso in confezione il cavo del quale vi parlavo in precedenza ma questa volta l'alimentatore fatto in questo modo guardate a un cavo con una presa asciuco tra l'altro con protezione indice di qualità cavo molto doppio e questa è una cosa positiva soprattutto perché ci dice come sia dotato di una protezione estrema contro le interferenze qual è la particolarità beh qui non potremo andare a staccare il cavo ovviamente perché non si tratta di un cavo bipolare abbiamo una potenza anche qui di ben 75 watt lo vedete ma nella parte superiore abbiamo un tappino in gomma che va a proteggere un'ulteriore presa asciuco quindi potremmo collegarci all'interno qualsiasi tipo di dispositivo che necessita di corrente a 220 volt nella parte superiore anche qui abbiamo ben tre prese power delivery abbiamo vedete anche la possibilità di collegarci un macbook un notebook come dicevo in precedenza e così gli altri dispositivi ma anche la ricarica veloce che permettono appunto a dispositivi non di tipo power delivery di essere ricaricati velocemente lo stesso anche lui un dispositivo di estrema qualità lo vedete qui ci sono tutte quante le informazioni a disposizione insomma un caricatore che non solo restituisce velocità non solo è di estrema qualità è anche bello da vedere ma soprattutto estremamente sicuro estremamente versatile in maniera tale da non andare a rovinare proprio tutti quanti i nostri smartphone tablet notebook che siano insomma amici concludendo spero davvero che questo video non solo sia stato bello ma vi sia stato soprattutto utile se così è mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale fatemi sapere anche qui sotto nei commenti qual è la vostra idea cosa usate voi per ricaricare i vostri smartphone così anche da prenderlo in considerazione per nuovi video seguitemi su instagram perché vi do tanti tanti aggiornamenti e vi ricordo che i link sono qui sotto in descrizione ma anche sul mio canale telegram delle offerte con qualche codice intanto ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube